L'Accademia Italia in Arte nel Mondo, Associazione Culturale, presenta la Biennale Internazionale d'Arte, Premio Poseidone. L'evento si terrà a Lecce, presso il foyer dell'Antico Teatro Politeama Greco. Gli artisti insegnati riceveranno il busto di Poseidone, Re dei Mari, realizzato in pregiata polvere di alabastro. Dunque, vi aspettiamo sabato 9 luglio presso il Teatro Politeama Greco a Lecce.